Il grande appuntamento relativo al premio letterario Galeazzo di Tarzi ha aggiunto alla 26esima edizione. Il plauso e i complimenti alla Prologo Belmonte che da 26 anni porta avanti questo importante concorso ovviamente mirato alla promozione e valorizzazione del poeta Galeazzo di Tarzi che appunto è l'emblema di questo territorio e rappresenta in un certo senso una figura di spicco dal punto di vista storico-culturale. In questa edizione ovviamente si ripercorre i cento anni da fiume evidenziando anche quella che è stata la prima guerra mondiale, quindi cento anni di un periodo drammatico e che ha visto veramente tantissimi disastri. Un appuntamento che vede la partecipazione da parte del mondo delle istituzioni e delle Prologo. Il saluto e il ringraziamento al presidente regionale dell'UMPLI, il dottore Capellupo, unitamente a tutti i rappresentanti delle Prologo Limitorofi, dal presidente di Campora San Giovanni, nonché vicepresidente dell'UMPLI provinciale di Cosenza, agli altri presidenti che quotidianamente partecipano a tutte le iniziative anche con una logica di rete, di sinergie, anche perché in questo territorio è stato istituito appunto un calendario unico. Rinnovo il plauso e i complimenti al presidente dottoressa Giovanna Ruggero, unitamente a tutto il Consiglio d'amministrazione, all'amministrazione comunale di Belmonte che affianca costantemente le azioni della Prologo Belmonte e questo è un esempio ovviamente virtuoso di cooperazione, di sinergie e di collaborazione.